L'autorità di Gesù e l'autorità del cristiano viene proprio d'esta capacità di capire le cose dello Spirito, di parlare la lingua dello Spirito, viene di questa unzione dello Spirito Santo. E tante volte, tante volte noi troviamo tra i nostri fideli vecchiette semplici che forse non hanno finito l'elementale, ma ti parlano delle cose meglio di un teologo, perché hanno lo Spirito di Cristo. Questo è grazie a un Paolo. E tutti noi dobbiamo chiedere questo. Signore, donaci l'identità cristiana, quella che tu avevi. Donaci il tuo Spirito. Donaci il tuo modo di pensare, di sentire, di parlare. Cioè, Signore, donaci l'unzione dello Spirito Santo. Così sia. Signore, da sua parte. Signore, donaci il tuo modo di pensare, di parlare. Signore, donaci il tuo modo di pensare. Grazie a tutti.